Stamattina un consiglio comunale con degli spettatori, diremmo così, particolari, c'è una grossa presenza di Salerno Pulita, perché? C'è questa presenza di Salerno Pulita per quanto riguarda il settore pulizia che sono preoccupatissimi. Ripeto, il settore pulizia di cui è nato negli anni passati nel 97 con questi lavoratori che sono ben 130. C'è la preoccupazione oggi perché noi abbiamo diversi stabili sia comunali ed uffici giudiziari di cui questi uffici giudiziari per legge dovrebbero andare a gara di appalto. I lavoratori giustamente sono preoccupati perché tuttora oggi non abbiamo risposta sia dal comune, ci sono delle assicurazioni, sì, da parte della nostra azienda, dal presidente Fiorini. No, voi non perderemo il lavoro oppure vale che vada, il convittente che vincerà vi prenderà a lavorare con lui. Però la preoccupazione c'è perché noi, io come sindacato, so i vari passaggi come funzionano, con le ditte, ti fanno lavorare sei mesi, sette mesi a contratto pieno, poi dimezzano il contratto. E la preoccupazione è grande, è grande anche perché c'è stata una simbolizzazione di quasi 400 lavoratori dell'igiene ambientale, di cui questa legge regionale prevedeva la cantierizzazione, il passaggio come referente unico alla Salerno Pulita. E questi lavoratori dicono, il mio avvenire, io che sono stato promotore, ho fatto nascere questa azienda e ho il rischio di rimanere fuori. Stamattina stiamo qui per avere delle risposte, speriamo che in seguito ci sia un tavolo di contrattazione serio, il sindaco ci dia delle risposte per iscritto per il futuro di questo lavoratore, speriamo in bene.